Una lezione di legalità per decine di studenti aquilani iscritti agli ultimi due anni degli istituti superiori ai quali è stata dedicata stamattina alla multisala Moviplex la proiezione del film documentario Colpa Nostra del giornalista di Repubblica Giuseppe Caporale e per la regia di Walter Nanni. Io ho ascoltato Filippo D'Averio recentemente e parlava dell'Italia mangiata. Parlava di un paese che non ha più la forza di guardare al futuro e che l'unica cosa che sa fare è mangiare se stesso. Credo che abbiamo cominciato con l'Aquila, stiamo continuando con Pompei e pian piano ci stiamo mangiando un po' tutto. Credo che la voglia di futuro debba ripartire dai ragazzi e se oggi siamo qui rubando il tempo al nostro lavoro, alle nostre fatiche quotidiane anche per dare una spinta. Il film non ha una chiave tra virgolette politica partitica. Questo film, questo docufilm racconta noi, parla di noi, della nostra terra. L'Abruzzo che in questo momento è lo specchio di quello che succede nel resto dell'Italia. La proiezione voluta dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i minoranni e per la famiglia rientra in un più ampio progetto rivolto alle scolaresche aquilane ed è stata preceduta dagli interventi degli autori del film, dell'assessore Pezzopane e di Antonietta Picardi, pubblico ministero alla procura del capoluogo.